Complimenti davvero Fonseca, io ricordavo anche i suoi numeri in Europa da quando l'allenatore della Roma, 12 vittorie su 20 partite. Quanto aveva bisogno Fonseca il calcio italiano di una notte come questa che ci avete fatto vivere? Io partirei da questa considerazione davvero. Grazie mille. Partiamo da questa considerazione, quanto aveva bisogno la Roma e quanto aveva bisogno anche il calcio italiano di un'affermazione così prestigiosa su un campo difficile come questo dell'Ajax. Sì, è stata una vittoria importante. Dopo tanti problemi, un momento difficile, abbiamo tanti problemi con il giocatore, il giocatore è molto importante per la squadra, è stato molto importante vincere qui. Ajax è una grandissima squadra come abbiamo visto oggi, ma i ragazzi hanno fatto una grande partita, è stato importantissimo. Per me il round non è chiuso ma è stato importantissimo vincere oggi qui. Forse è proprio questa la grandezza della vittoria, perché lei chiedeva ieri una partita perfetta ma con tanti infortunati, con un fortunato in più come Spinazzola, era difficile vedere una prestazione perfetta in 90 minuti. qualche errore difensivo c'è stato, ma forse la grandezza è stata proprio questa, vincere in un campo difficile anche di fronte a tutte queste difficoltà. Sì, è stato molto difficile vedere la situazione di Spinazzola. Spinazzola stava molto bene creando diverse situazioni di attacco, ma succede questo tipo di problema e dobbiamo reagire. Calafiore è entrato molto bene, felicemente ha aiutato molto la squadra, ma è questo. Penso che la squadra ha capito che questo è un momento importante per noi. i ragazzi hanno dato tutto. È vero che abbiamo avuto un altro problema difensivo, ma penso che la squadra ha sempre stato consapevolezza che possiamo fare gole qui. Io ho sentito sempre la squadra anche in momenti difficili con fiducia e come ho detto è stato molto importante questa vittoria. Senta, la vediamo molto equilibrata come sempre nell'analisi, ma anche un po' provata, un po' stanco stasera. È normale, è stata una partita di grande... Sofferenza anche per lei. Sì, intensità, di grande intervenzione, ma abbiamo fatto quello che abbiamo preparato per la partita. Io ovviamente sono felice di questa vittoria, ma devo dire che è stato importante vincere, è molto importante fare due gole qui, ma il round non è chiuso. Non è chiuso, c'è sempre la gara di ritorno. Ricordiamo il giovedì prossimo, quindi la prossima settimana. Leo. Ambrosini. Sì, mister, buonasera e complimenti. Secondo me questa partita ha detto principalmente tre cose. La prima è che la Roma è entrata in campo con l'atteggiamento giusto, con lo spirito giusto. Si vedeva soprattutto nella prima mezz'ora che la volontà comune era quella di aiutarsi in mezzo al campo, di andare anche sopra tutte le difficoltà che lei ha elencato. Anche detto che probabilmente i problemi difensivi in realtà secondo me sono stati più problemi con la palla, nel senso che i due gol glielo avete regalati voi. Cioè quando la palla era vostra avete commesso degli errori col pallone. E il terzo è che l'atteggiamento giusto secondo me ha avuto un condottiero, che è il vostro capitano, che oggi secondo me ha fatto la miglior partita stagionale per disponibilità soprattutto a essere dentro la partita dal primo al 75esimo quando poi è stato sostituito. Sì, è vero. Quello che mi dispiace a me è che siamo per volte, tante volte, siamo noi a creare i nostri problemi come oggi abbiamo fatto. Perché dopo abbiamo sempre controllato bene questi attacchi che sono molto, molto forti. Per me Ajax è la squadra più forte in attacchi in Europa. Ma l'importante è che la squadra mai abbassato la testa, ha reagito sempre forte. E sì, Pellegrini ha fatto una grandissima partita, ha sempre un grande atteggiamento, ha lavorato molto, come tutti oggi. Trevisani. Monseca, le sembra la stessa squadra quando gioca in Serie A e quando gioca in Europa League? Perché in Europa League sembra più bella, più spensierata, più allegra, più forte anche. Avete vinto a Braga, avete vinto a Chieva, avete vinto ad Amsterdam andando in svantaggio e rischiando di prendere il 2-0. Non vedo la Roma migliore o non so, forse più libera di testa quando giocate lontano dalla Serie A? No, io non voglio alibi, non voglio escusa, voi sapete che io non sono un allenatore che cerca escusa, ma non possiamo dimenticare che questa squadra è stata quasi sempre in quattro primi posti della classifica. Tra tre e quattro partite fa abbiamo stato sempre dentro di obiettivo. ma devo dire anche che è stato un momento in cui abbiamo perso i giocatori che sono stati molto importanti durante la stagione. Perdere Veretout, perdere Mkhitaryan in questo momento e non avere Chris Smalling è molto importante per la squadra e non abbiamo avuto. Ma penso che l'importante adesso è pensare nel presente, nel futuro e con questi giocatori che dobbiamo luttare fino alla fine. Ma proprio per questo non meriterebbe un po' più di rispetto Fonseca visto che un giorno sì e un giorno no sbattono sulle copertine un allenatore o non con un allenatore che è un passo da una semifinale di un Repo League non avrebbe meritato un po' più di rispetto? Io devo fare il mio lavoro io non posso controllare le critiche devo dire che io sento sempre le critiche se parlano che Fonseca non faccia bene questo non faccia bene quello non prepara la partita io posso accettare questo quello che mi dispiace più è le bugie e sono tanti le bugie per me che non sono italiano è difficile capire è che la Roma sta rappresentando l'Italia in questo momento e in una settimana importante come questa in cui abbiamo questa partita con Ajax Bologna e rappresentando l'Italia si crea tante bugie e penso che questo non è positivo questo è troppo negativo penso che in questo momento dobbiamo essere tutti italiani dobbiamo aiutare aiutare la squadra italiana e per me è difficile accettare che si crei tante bugie intorno della squadra che per me che noi possiamo dire che non sentiamo non non guardiamo è difficile non guardare non sentire ci faccia capire bugie su cosa questa settimana bugia solo che su quello che scrivo questa settimana hanno creato un casino con una bugia incredibile come si può creare una bugia di questa che i giocatori mi hanno affrontato che abbiamo avuto una riunione prima dell'allenamento è tutta una bugia io non lo so come si può fare fare questo non ha serietà quando si scrive di questa forma ma questo non posso controllare quello che posso controllare è il mio lavoro il lavoro dei ragazzi e quello che sto facendo cercando sempre di farlo in un modo equilibrato lo sentirà anche Matteo Marani sulle sue parole se possiamo al volo Marani grazie a Fonseca Matteo scusa Matteo ti ho rubato la domanda ma mi sembrava importante capire che cosa stessi dicendo